ecco gli accontentati e 1, 2, 3 grazie signore, grazie grazie signore, grazie grazie signore, grazie grazie indovinate questo ah è super, ma è super Gesù mi dà, ma no grazie signore e sono ancora grande Gesù grande fai Gesù, fai un rosa che ti faccio? e forzi e forzi Buon ladrone, quanto disti da me? Ma, saranno 10 metri. Ladrone cattivo, quanto disti da me? Ma, ugualmente 10 metri in mezzo. E allora sono io. Se prima eravamo i tre a ballare dalli galli, adesso siamo i quattro a ballare dalli galli. Adesso siamo i quattro a ballare dalli galli, se prima eravamo i tre a ballare dalli galli. Adesso siamo i quattro a ballare dalli galli, se prima eravamo i tre a ballare dalli galli. Adesso siamo i quattro a ballare dalli galli. Beh maestro, facciamo questo brindisi! E perché no? Prego maestro! Questo! Matteo, vivi tu! Si maestro! Traditore! No! Giuda! Ma cosa hai fatto? Vabbè, tanto non mi è stato mai simpatico! Oh mio Dio, prezzamolo! Qualcuno, vi venga la pronta! Come quella volta in cui mi apparve l'arcangelo Gabriele? Sei incinto! Vi ho raccontato mai di quando trasformai l'acqua in vino? Si, come no? Ho venguto il naso, tu mi hai riti! Non eri qualsiasi cieco prima di incontrarmi! Miracolo! Avremmo pure esagerato, ma almeno la mia pelle è salva! Visto che stiamo con la persona ideale! Puoi anche farti vedere da Giuda! Stai pur tranquillo Giuda! Mi sono servito di lei per liberarvi da cospiratori! A proposito, gran bel lavoro! Sì? Ehi, Ponzio! Stavo per chiamarti io! Sì? E se te li sistemassi direttamente tutti io? Puoi già mandare uno dei tuoi scagnozzi a controllo! Ah, Barabba! Vecchia pellaccia! Allora lavori per loro, eh? Loro? Loro! I romani! A dire il vero! Mi manda Maometto! Allora siamo alla resa dei conti, Barabba! Allora siamo alla resa dei conti, Barabba! Ti propongo un duermo! Dieci passi per decidere il nostro mestino! Sei pronto? Prontissimo! E 2 3 3 4 5 5 6 3 3 3 4 5 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 16 18 Grazie a tutti Grazie a tutti